ciao ragazzi ciao sono il vostro nero di fiducia benvenuti al mio canale nel roso nero chiedo scusa per il video di ieri io l'ho caricato così come è venuto ero emozionato ero felice ero contento e mi sono accorto che l'audio non c'era non mi chiedete come mai ma non c'era l'audio forse le mie cuffie hanno fatto cilecca in quella occasione lì non capisco il motivo io ho controllato vanno ma si vede che il destino ha voluto così e parlando di destino mi voglio introdurre subito al tema di questo video voi non so se ricordate ma otto anni fa un certo niang presse un palo con un certo campo europeo e comincio da lì la debattia europea del milano prima di quella italiana è stata la caduta in disgrassi in europa chissà come sarebbe andato se niang avesse fatto gol a porta vuota contro quel barcelona però sappiamo tutti com'è andata quindi buon anniversario a noi buon anniversario niang ma tiriamo le somme otto anni fa il milan come si presenta europa siamo anche il giorno dopo di manchester milan e le sensazioni sono molto positive più di quella giornata lì allora è vero che negli ultimi anni l'europa ci ha lasciato un sapore amarissimo in bocca dall'ultimo gol segnato in champions da cacca all'eliminazione con olimpia cosa in modo crocambolesmo quando c'era ancora gattuso a quel confronto diciamo prematuro contro l'arsenal che non ci hanno fatto dimostrare che loro erano un po zittino avanti a noi contro il manchester abbiamo dimostrato che invece noi siamo maturi i tempi sono maturi per un milan europeo è vero abbiamo preso gol in maniera stupida ok loro sono stati bravi a sfruttare l'unica occasione che abbiamo lasciato ossia calci da fermo per provarci a fare male ma noi con le seconde linee che non so più se definire le seconde linee abbiamo messo la seconda in classifica nel campionato inglese ventanato proprio nella loro metà campo ma neanche nella loro area di vigore fra un po tutto il tempo in partita cioè abbiamo dimostrato che noi abbiamo che sì ragazzi noi abbiamo che sì il centrocampista più forte in europa l'ha dimostrato se questa partita non serve come il suo vattesimo non lo so cosa altro può fare ok non era in europa league non era in champions ma sia la milan sia che il manchester nel prossimo anno giocheranno in champions league ragazzi ripeto sono le due le due prime del del suo ripetivo campionato e che sì cioè se mangiato è stato un leader completamente ha preso il milan in mano e ha che cosa non ha fatto che sì quindi secondo me è stata la sua consagrazione se noi ricordiamo cacà con quel gol maraviglioso capolavoro cioè non ce n'è un gol così nella storia del calcio proprio come quello di cacà era un trafor ok noi ricorderemo come questa partita all'ultrafor come la consagratessimo il battessimo di che sì come il centrocampista che farà la storia del milan io me lo auguro però stati bravi tutti dall'otto migliore partita da quando dal milan leao mi faceva bestemmiare ho tratto giù tutti i santi ma l'ultima azione che ha portato al gol è suo kiev con autorità davvero leader ha presso la parola ha messo dentro che tra l'altro noi meritavamo la vittoria nel pareggio io lo so che i bambini speciali e hater del milan dicono ah sì ma un manchester redimensionato a perché noi no cioè fatemi capire voi non riuscite a battere il porto voi non riuscite a fare un gol allo sport a praga non allo sport a praga lo shatter scusate e poi venite a noi a parlare di un pareggio contro il manchester united statevi a casa vostra che è meglio l'europa non è cosa vostra l'europa è roba da milan l'europa è roba da milan e otto anni fa da quel famoso palo dove è stato distrutto ok quello che è il milan in europa perché non ci siamo più ripresi ieri ho visto qualcos'altro a un giorno dell'anniversario del palo del nyan ho visto un milan risorto in europa un milan che può dire la sua cioè un milan che me lascia veramente sperare bene ma non solo nell'ambito italiano che questo l'abbiamo già visto negli occhi di tutti ma anche in europa allora io non seguo solo i videomaker i giornali italiani io seguo quelli mondiali lo sapete cosa dicono al di fuori dell'italia perché in italia si tende a menosprezziare a disminuire quello che fa il milan ma in europa sapete cosa si dice in latino america sapete cosa si dice che di questo manchester united milan e la partita che vedremo sarà milan manchester united uscirà la preferita ok uscirà la preferita per il titolo la favorita cioè ecco danno al milan come favorita per la vittoria dell'europa league ecco come nel mondo ci stanno cominciando a vedere e questi siamo noi poi lasciate parlare a lei poi contro napoli ragazzi sarà durissima ma io questa squadra mi ha ormai comprato in tutti i sensi io ho fiducia in questi ragazzi se si perde so che si può perdere contro napoli si può perdere non ne vestemmia so che dalla prossima partita loro ricominceranno ci dimostreranno che ormai siamo il milan perché quello che siamo cioè non puoi scommettere incontro questa squadra perché perderai questa squadra ti smentisce se non una partita in quell'altra questi siamo noi ragazzi questi siamo noi ciao sono il vostro nerd iscrivetevi al mio canale